Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. In queste ore, sono trapelate alcune anticipazioni che fanno pensare ad una imminente eliminazione. Il concorrente verrà eliminato nella puntata di venerdì 7 gennaio. A rischio eliminazione per un fatto grave avvenuto di recente sarebbe Katia Ricciarelli. I colpi di scena non mancheranno. E al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto lo scontro avvenuto in queste ultime ore tra Katia Ricciarelli e Lulu Selassie. Le due geffine si sono ritrovate ai ferri corti e sono volate parole grosse. Ricordiamo la conversazione. Katia aveva esordito dicendo, vai a scuola tu, al tuo paese, che forse non ti hanno insegnato nulla. Era arrivata subito la risposta di Lulu, che aveva detto. Sono nata in Italia, innanzitutto. Non permetterti mai più. La gente ti ha abituato male. Ma le cose sono andate ancora peggio quando la soprano aveva detto. Scimmia, la principessa che sta a gambe aperte. Una frase orrenda ed irripetibile, che secondo una parte della rete meriterebbe una squalifica. A quanto pare, in programma per il sette, ci sarebbe la possibile squalifica di Katia Ricciarelli. La quale, questo venerdì sera, potrebbe essere fatta fuori dal cast del reality show Mediaset. Al tempo stesso, però, sembrerebbe che Alfonso Signorini non sarebbe d'accordo nel punire la cantante lirica. E sarebbe sua intenzione punire la principessina Lulu per la mancanza di rispetto nei confronti della Ricciarelli. Insomma, una puntata che si preannuncia particolarmente scoppiettante. E che potrebbe essere caratterizzata da diversi provvedimenti nei confronti dei vipponi. coinvolti in questo triste episodio. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.